Buonasera, benvenuti. L'Asia siamo noi. Questo è il titolo che vede l'incontro tra Mossina Mid, premio Terzani 2014, ex equo con Pierluigi Cappello, per il suo romanzo Come diventare ricchi sfondati nell'Asia emergente. Lo abbiamo messo a confronto con uno studioso di geopolitica, Michel Guglielmo Torri, per il cui contatto ringraziamo come sempre l'IMES e Istoria. È docente di Storia moderna e contemporanea dell'Asia all'Università di Torino ed è presidente di Asia Mayor, dunque ha i titoli per discutere con Mossina Mid, che non è soltanto uno scrittore, ma è anche un qualificato opinionista di molte testate internazionali. A moderare questa conversazione abbiamo invitato Gigi Riva, che è un giornalista inviato dell'Espresso, ma anche fa altre cose, sceneggiatore, cinematografico, eccetera, molto versatile. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto e vi ricordo che se qualcuno non avesse ancora ritirato i biglietti per la serata di stasera, forse qualche biglietto last minute potrà trovarlo qui nel nostro infopoint qui fuori. Grazie, buon ascolto e benvenuto a Mossina Mid. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti così numerosi a questo incontro con Mossina Mid. Ma a giudicare dal libro che è stato alla fonte del fatto che gli è stato assegnato il premio Terzani, io credo che non avrete sprecato il vostro tempo, perché Mossina Mid, immagino che assieme al professor Torri, che ci accompagnerà in questa cavalcata, ha molte cose da raccontare a noi. Non è un caso che il titolo che abbiamo scelto per questo incontro sia l'Asia siamo noi, perché immagino che molti di voi avranno letto il libro di Amid e per chi non l'ha letto sappia che troverà molte analogie con noi, con la storia del nostro paese, ma anche con la contemporaneità del nostro paese. Quasi come se quell'assunto, cioè la globalizzazione di cui il libro parla, della globalizzazione di un continente come l'Asia che all'improvviso si è messo a correre in un modo così sfrenato verso il benessere, ha portato in luce dei sentimenti che sono universali, perché se l'economia si è globalizzata solo di recente, o meglio, è stata globalizzata a grandi ondate, siamo in una terra in cui immagino che ci saranno delle manifestazioni per ricordare lo scoppio della prima guerra mondiale esattamente cento anni fa, quando si disse che la terra aveva avuto la sua prima grande globalizzazione. Ecco, siamo in presenza negli ultimi vent'anni di questa seconda, se volete, grande globalizzazione e nel romanzo di Moshin Amid si racconta la storia di come delle persone che abitano una città che non è mai citata, ma che trasparentemente è la Ore, cioè la città dove adesso abita Amid, evolve, cambia e come cambiano i sentimenti dei suoi abitanti e così scopriamo che nella parabola che descrive questo uomo che parte poverissimo, si trova ad essere ricchissimo, poi viene fregato da un socio e torna ad essere poverissimo, ci sono tutte quelle pulsioni che riguardano l'umanità intera, che quanto ha sentimenti è globalizzata da sempre, perché le aspettative di ciascuno di noi sono quelle di migliorare la nostra posizione sociale, migliorare il nostro standard di vita, crescere dei figli, innamorarsi e cercare di avere una vita serena. così come le aspettative dell'altra protagonista di questo romanzo sono quelle di diventare una piccola star, una piccola star del mondo della moda, una piccola star che il suo progresso sociale passa attraverso la sua bellezza, la bella ragazza come viene sempre chiamata da Hamid durante tutto il romanzo. Allora nel leggere questo libro io ho continuato a immaginare che il parallelismo fosse evidente e che la ragazza fosse forse come una delle oggettine di cui abbiamo sentito tanta cronaca sui giornali in questi ultimi tempi, ma c'è qualcosa di più profondo forse che ci fa dire che il parallelismo regge, perché noi ci scandalizziamo moltissimo per esempio quando leggiamo la notizia che una ragazza pakistana che si chiama Ina qualche anno fa a Brescia è stata uccisa dal padre perché voleva vivere all'occidentale e poi non con lo stesso clamore ci scandalizziamo quando scopriamo che per esempio l'anno scorso stando alle statistiche del Ministero dell'Interno 177 donne in Italia sono state vittime di quello che con un termine brutto ma che definisce il problema abbiamo chiamato femminicidio, come se anche nella nostra società pur evoluta, purché consideriamo più evoluta, in molti casi il corpo della donna e la donna sono considerate un patrimonio degli uomini. Naturalmente chiunque abbia affrontato questo libro credo non abbia potuto fare a meno di ritrovare tutto questo all'interno del libro. Allora la prima domanda che volevo porre a Moshin è chi descrive molto bene il suo metro quadro, come si suol dire, cioè la tua città come hai fatto tu, nel momento in cui parla di cose universali come i sentimenti perciò parla tutta l'umanità, quindi l'Italia è l'Asia, anche secondo te? Grazie per essere venuti qui stasera ad ascoltarmi. Sono stupito di sentire che parlo così bene l'italiano tramite il mio interprete. Mi sembra che l'ho già imparato come madrelingua, lo parlo così bene. Comunque, che cosa è universale? Apparteniamo a diversi paesi, a diverse società. Per rispondere a questo, io devo in un certo senso far riferimento alla mia esperienza. Io sono nato in Pakistan e quando avevo tre anni mi sono trasferito in America. Giunto in America, mio papà faceva un PhD all'Università di Stanford, California. Il primo giorno sono andato a giocare davanti a casa e mia mamma poco dopo ha sentito piangere ed è venuta fuori. Ha visto che stavo lì davanti alla casa dei nostri vicini. I vicini mi guardavano pensando ma chi è questo ragazzino? Io guardavo loro, i vicini, pensando questa donna non è mia madre, è una vicina. Chi sarà questa? Ed ero circondato da altri bambini. E i bambini dicevano ma cosa c'è che non va con questo ragazzino? Perché non sa parlare come noi, ha un ritardo mentale? E mia mamma è intervenuta per dire che non è ritardato. Sa parlare benissimo, solo che non sa l'inglese. Passa a parlare solamente la sua lingua. E poi per un mese i miei genitori sono andati avanti a dirmi che non ho mai più proferito parola. Ero zitto, non ho mai più aperto bocca. E si cominciavano a preoccupare che avessi perso la parola. Mia mamma cominciava a pensare di portarmi da un medico, da un logopedista. E mio papà invece diceva ma nonno, abbiate pazienza. E quando un mese dopo ho ripreso a parlare, ho parlato perfettamente in inglese, con un accento già americano, e facevo già delle frasi ben strutturate. E poi sei anni dopo ce ne siamo tornati in Pakistan, con la mia famiglia, all'età ormai di nove anni. E solamente a quel punto i miei genitori si sono resi conto che avevo dimenticato come si parla l'urdo, la lingua del Pakistan. E quindi ho dovuto reimparare l'urdo, e ho dovuto reimparare come si vive in Pakistan. E poi vivendo lì, in Pakistan, lì tutti pensavano che fossi pakistano. Però sapevo che ormai ero un mezzo californiano. E poi a 18 anni sono ritornato negli Stati Uniti. A quel punto l'inglese lo conoscevo davvero bene, conoscevo bene anche l'urdo. In America mi scambiavano per un americano nato e cresciuto lì, e poi sono andato a Londra. E adesso sono anche tornato in Pakistan. E adesso, ogni qualvolta viaggio, vado in giro per il mondo, ogni tanto mi sento veramente un po' come un camaleonte, come un trasformista, perché in Pakistan il mio colore è verde, diciamo. In America il mio colore è blu. Mi trasformo, cambia la mia voce, cambia il mio accento, mi trasformo. Mi posso mescolare in tanti modi, però comunque mi inserisco e al contempo sono un mezzo estraneo, ovunque io vada, faccio parte o non faccio parte. Quindi per me la questione dei valori universali degli altri, oppure valori diversi per luoghi diversi, è una cosa molto personale. Perché se uno dice che esiste un mondo musulmano islamico, oppure che esiste un mondo asiatico con i propri valori, o un mondo occidentale, un mondo europeo con i suoi valori, e che queste due cose sono completamente diverse, come non so, proprio come la destra e la sinistra, come maschio e femmina, come bianco e nero, allora uno come me non potrebbe esistere, perché io sono un mix. Per cui la mia posizione di partenza è che c'è un'umanità condivisa, a cui apparteniamo tutti. Ogni tanto questa umanità parla con un accento pakistano, ogni tanto con un accento italiano, ogni tanto con un accento americano, però l'umanità è molto universale. E quindi c'è da concludere, tutti i valori che la permeano si possono ritrovare delle costanti di questi invalori nei comportamenti quotidiani di tutti, ed è il motivo per cui poi la grande letteratura è capace di raccontare una storia che riguarda il Pakistan, ma che sentiamo così vicina come ci succede con i libri di Moschina Mead. Io adesso volevo chiamare in causa il professor Torri, perché se la storia del libro di Moschina Mead è anche, se volete, da un punto di vista romantico, una storia d'amore, una storia d'amore sempre rimandato, eccetera, eccetera, è altrettanto vero che il sostrato di tutta questa storia parla molto del carattere sociale, è la descrizione di un paese che ha vissuto degli sconvolgimenti epocali, con tutto quello che questo consegue, la corsa alla ricchezza, la corsa a incrementare il prodotto interno lordo, la corsa a stare meglio, eccetera, eccetera, tutto quello che noi abbiamo immaginato e descritto come il grande progresso delle tigri asiatiche, anche se nel momento in cui parlavamo di tigri asiatiche ci riferivamo forse a paesi che non immaginavamo fosse il Parkinson, immaginavamo l'India, immaginavamo la Cina, immaginavamo persino il Vietnam, eccetera, scoprendo col libro di Moschina Mead che in questa corsa a cercare di stare meglio anche la società pakistana sta giocando un ruolo importante, pur con tutte le sue contraddizioni. Se in questo libro è solo accennato il problema del fondamentalismo, nel precedente libro di Moschina Mead che si chiama Il fondamentalista riluttante, invece in primo piano emergono tutte queste contraddizioni che nascono in una società come quella pakistana tra l'ancestralità di alcuni valori tramandati dalla religione e l'attualità di un progresso economico che li apparenta, almeno per quanto riguarda certe scelte liberiste, eccetera, al mondo contemporaneo. Allora, la domanda che vorrei fare al professor Torri è dov'è l'Asia oggi? Qual è il suo ruolo non solo economico ma anche sociale rispetto al consesso delle nazioni? Direi che è una domanda piuttosto impegnativa anche perché il termine di riferimento a Asia è un termine vago e indefinito. Bisognerebbe intenderci prima su che cosa è l'Asia. L'Asia sostanzialmente come noi la intendiamo è ciò che non è Europa nel continente eurasiatico. Ma dico questo per mettere in luce che le varie parti dell'Asia sono caratterizzate da differenze culturali e storiche molto profonde perché in Asia esiste una serie di civiltà che si sono sviluppate che hanno avuto rapporti fra di loro ma che fra di loro non sono più vicine di quanto per esempio la civiltà sinica sia alla civiltà europea per intenderci. Allora, è difficile fare un discorso generale sull'Asia. Per fare un discorso generale sull'Asia direi che volendo dare un'immagine dell'Asia di oggi bisogna tenere presente che in Asia ci sono alcuni attori principali alcuni protagonisti alcuni paesi che sono protagonisti delle vicende dell'Asia e è interessante notare che alcuni di questi paesi sono a tutti gli effetti paesi asiatici ma ce ne sono altri che non sono paesi asiatici lo sono solo in parte cioè mi spiego meglio direi che uno dei paesi che ha un ruolo maggiore in questo momento in Asia che ha avuto un ruolo maggiore in Asia almeno dall'inizio del secolo in corso sono gli Stati Uniti. Un altro paese che svolge un ruolo importante nell'Asia anche se prevalentemente nell'Asia centrale ma ultimamente ha dimostrato grande attivismo diplomatico anche nel sud-est asiatico è la Russia. Accanto a questi due giocatori ce ne sono altri tre che sono tutti gli effetti asiatici e che sono il Giappone la Cina e l'India. Allora fare un discorso sull'Asia è fare un discorso sull'interazione fra questi giocatori principali tenendo presente alcuni dati di riferimento il primo è che alcuni di questi paesi sono paesi in declino o sono paesi che ristagnano altri sono paesi in ascesa gli Stati Uniti per esempio sono un paese in declino cioè questo deve essere trattato con cautela questo dato nel senso che gli Stati Uniti continuano a rimanere di gran lunga il paese più potente che esista sulla faccia della terra è il più potente che siamo mai comparso nel corso della storia però è indubbio che c'è un po' qualche romano le direbbe assieme all'impero romano scusi l'inciso professore tanto per un po' di sciovinismo visto che siamo ma anche io sono un grande ammiratore dell'impero romano e leggo tempo perso storia romana ad ogni modo per tornare agli Stati Uniti un dato per esempio che simbolizza questo declino degli Stati Uniti è questo nel 1953 al tempo della guerra di Corea gli Stati Uniti producevano il 42% dei manufatti industriali a livello planetario nel 2008 cioè di fatto l'anno alla fine del quale è incominciata la crisi gli Stati Uniti producevano solo più il 20% dei manufatti industriali al mondo questo è un declino molto molto pronunciato poi abbiamo il caso della Russia che è un altro giocatore importante ma la Russia ha un problema di fondo cioè la Russia in Russia è in corso una crisi demografica di grandissime proporzioni c'è stato un politologo americano che ha sostenuto che entro il il 2050 la popolazione dell'intera Russia sarà più o meno delle dimensioni della popolazione della Turchia questo su un territorio così steso sul più vasto stato del globo significa un sostanziale scomparire della Russia dal contesto geopolitico per cui la Russia ha queste grandi risorse di idrocarburi produce armi e via dicendo ma ha questa grossa crisi poi abbiamo il Giappone il Giappone è un'economia che ha ristagnato per anni ora forse l'Abenomics cioè le nuove strategie economiche dell'attuale primo ministro Shinzo Abe potrebbero provocare un rilancio dell'economia giapponese ma è difficile per dirlo i due paesi che veramente crescono sono la Cina e l'India crescono sia dal punto di vista economico ma anche da altri punti di vista per esempio crescono dal punto di vista militare cioè la potenza militare della Cina la potenza militare dell'India non sono neppure lontanamente comprabili a quelli degli Stati Uniti però è indubbio che c'è stato un aumento di spese militari veramente rilevante in questo momento si è determinato una situazione per cui di fatto i due paesi maggiori che in fin dei conti sono gli Stati Uniti e la Cina si trovano su una posizione contrapposta cioè la Cina è chiaramente la potenza emergente o direi meglio la potenza riemergente perché in genere gli occidentali non se ne rendono conto ma fino ai primi due tre decenni dell'Ottocento la Cina era sicuramente lo stato più sviluppato al mondo e meglio governato al mondo cioè ricordo semplicemente un dato in Cina il sistema degli esami per reclutare i funzionari pubblici venne introdotto nel settimo secolo dopo Cristo in Europa il primo paese a introdurre questo sistema fu la Gran Bretagna nel 1845 se non sbaglio in Italia venne introdotto all'inizio del novecento questo significa che la Cina aveva una certa superiorità proprio anche strutturale rispetto all'Occidente poi questa superiorità è scomparsa sotto l'impatto dell'aggressione occidentale per chiamare le cose con il loro nome adesso siamo in una fase in cui la Cina sta come dire riprendendo questa sua corsa e chiaramente puntando a diventare la prima nazione al mondo gli Stati Uniti che sono un paese in declino ma un paese ancora potentissimo hanno chiaramente un interesse fondamentale primario direi a cercare di o rallentare la crescita della Cina o impedirla hanno un interesse a contenere la Cina in realtà hanno sempre ondeggiato da almeno vent'anni a questa parte se non di più farà la politica del containment del contenimento della Cina e la politica dell'engagement che è un termine un po' ambiguo in inglese engagement può voler dire qualsiasi cosa da fidanzamento a scontro armato ma l'engagement è impegnare la Cina come un azionista responsabile dell'ordine mondiale c'è questa politica oscillante ma direi che la politica del contenimento sostanzialmente sta prevalendo è una contrapposizione che può essere potrebbe essere tendenzialmente pericolosa se non che a complicare un po' le cose c'è questo fatto che al tempo della guerra fredda per esempio quando c'era il pericolo del confronto fra Cina e Unione Sovietica Cina e Unione Sovietica erano due sistemi economici completamente separati fra di loro in questo momento invece i sistemi economici cinese e americano sono intimamente connessi la Cina è il principale possessore di titoli del tesoro americano e una gran quantità di industrie americane hanno delocalizzato in Cina si è determinato un tipo di rapporto che è in realtà analogo a quello della guerra fredda nella guerra fredda c'era questo rapporto che gli analisti chiamavano rapporto MAD cioè Mutually Assured Destruction fare la guerra al tempo della guerra fredda trasformare la guerra fredda in guerra calda avrebbe significato la distruzione mutua dei due contendenti nel caso di Cina e Stati Uniti c'è una situazione MAD a livello economico perché sì ipoteticamente la Cina potrebbe vendere in blocco i titoli del tesoro americano provocando la crisi totale dell'economia americana il che come controcolpo comporterebbe la crisi totale dell'economia cinese anche perché i cinesi vendono molto sul mercato americano quindi il confronto diretto lo scontro diretto fra le due potenze non è possibile ma questo non significa che non si farà la guerra come al tempo della guerra fredda al tempo della guerra fredda la guerra fredda si è combattuta su una serie di scenari apparentemente secondari anche questa guerra economica si sta combattendo su una serie di scenari apparentemente economici gli Stati Uniti hanno lanciato negli ultimi anni questa idea di un di un mercato un mercato comune dell'Asia Pacifico questo mercato comune dell'Asia Pacifico ingloba tutta una serie di paesi asiatici ma esclude la Cina cioè è chiarissimo che la creazione di questo mercato comune fa parte di questa operazione di contenimento nei confronti della Cina ecco questa in due parole la realtà dell'Asia oggi poi certo bisognerebbe parlare anche quantomeno di Giappone e India e ci arriviamo magari nella successiva domanda perché volevo coinvolgere Moshima a proposito delle cose che lei ha detto professore perché Moshimi il professore ci ha raccontato di alcune potenze alcune regionali che stanno vicino al Pakistan l'India e poi entreremo nei dettagli con il successivo intervento la Cina il Giappone e attori esterni gli Stati Uniti la Russia e in mezzo a tutto questo c'è il Pakistan allora come come percepiamo noi il Pakistan da qui al di là di quando ce ne occupiamo per casi di cronaca che succedono in casa nostra nella comunità pakistana la percezione che noi abbiamo del Pakistan è grossomodo questa che è un paese decisivo per i destini di tutti compresi i nostri perché per evidenti motivi qualche anno fa in Pakistan è stato ucciso Zabban Bin Laden probabilmente protetto dai potentissimi servizi segreti pakistani l'ISI confina con l'Afghanistan che è un altro stato decisivo per gli equilibri dell'Asia e dove Al Qaeda aveva messo una base importante possiede la bomba atomica ed è in conflitto per fortuna strisciante con un altro paese che pure possiede la bomba atomica che è l'India ora la percezione che abbiamo noi è quella di un paese molto delicato da maneggiare con estrema cura che è costantemente sull'orlo di un precipizio perché noi ci immaginiamo almeno per quello che riusciamo a leggere dalla stampa anche internazionale di complotti dei servizi segreti che avrebbero delle collusioni anche con i gruppi più ostemisti la scarito Iba spero di pronunciarlo bene piuttosto che i talebani che vengono addestrati nelle madrasse poi all'improvviso arriva il suo libro e all'improvviso non tanto ma insomma per i più acuti osservatori però all'improvviso arriva il suo libro e scopriamo che c'è un paese che sicuramente in questo libro è attraversato da un momento in cui il protagonista incontra alcuni di questi gruppi fondamentalisti ma che insomma attorno a tutto questo c'è un paese che ha una fibrillazione crescente che cresce che vuole crescere che vuole migliorare il proprio tenore di vita che vuole riprendere a consumare e allora la domanda è visto che il precedente libro invece era proprio sul tema del terrorismo questi due fattori come si bilanciano cioè da una parte un paese che strizza l'occhio anche ad alcune formazioni terroristiche estreme in nome di un ritorno a valori antichi della comunità musulmana e dall'altra parte questo emergere e diventare ricchi sfondati che molta parte della sua popolazione vorrebbe avere che relazione c'è tra questi due sentimenti io penso che in un certo senso molti dei paesi sono come delle nuvole se uno guarda le nuvole da lontano uno vede così una schiuma un materiale in forme nel cielo man mano che ci si avvicina ci si rende conto che questa forma è composta da migliaia e migliaia di goccioline di individui goccioline e poi entrando la forma scompare è un po' così il Pakistan in realtà tutti i paesi sono così il Pakistan è un paese che ha una parte di terrorismo violento è un paese dove le persone dove si sviluppano armi nucleari il paese il Pakistan è un paese dove una ragazzina gli viene sparato in faccia solo perché dice che le donne devono poter andare a scuola è anche il paese dove due volte una donna è stata eletta primo ministro Benazir Bhutto ve la ricordate il Pakistan è un paese dove oggi come oggi in molte università ci sono più donne che uomini tra gli studenti ci sono sfilate di moda negozi alla moda ci sono stilisti gay super alla moda in Pakistan l'alcol è completamente illegale eppure ci sono feste dove scorrono fiumi di alcol molti di più di quelli che si consumano in Friuli a Udine per dire di un altro luogo dove questa contraddizione è evidente di un altro paese del mondo che è decisivo effettivamente è così per cui vedere questi paesi come qualcosa di unico di tutt'uno è un fraintendimento e allo stesso modo si rischia di fraintendere l'Italia ci sono tante Italie che cos'è l'Italia l'Italia è forse un luogo dove c'è una generazione più anziana che controlla l'economia che hanno assistito alla crescita economica dell'Italia che adesso hanno paura del cambiamento del dovere migrare per sopravvivere eccetera oppure l'Italia è un paese di giovani che fanno le superiori e che incontrano che incontrano ragazzi di altra parte del mondo che hanno una vita sempre più cosmopolita internazionale e che guardano al futuro in modo molto diverso da come lo guardavano i loro genitori è tutto ciò l'Italia è tutto ciò e anche gli altri paesi quindi quello che è importante per noi come cittadini del mondo cittadini globali è cominciare a renderci conto che la nozione unitaria di paese questa nozione globale quindi alleato nemico crescita o declino è tutta un po' artificiale e in qualunque paese troveremo alleati e nemici in qualunque paese per cui per risponderle sul Pakistan la visione che avete del Pakistan qui in Italia non è che sia sbagliata non è falsa però è sbagliato pensare che esista un unico Pakistan questo sì perché in realtà ci sono 200 milioni di diversi Pakistan un Pakistan per ogni singolo abitante di quel paese e in questo romanzo nel mio romanzo io volevo seguire raccontare la storia di alcuni di questi pakistani che si svolge ovviamente nel contesto del paese Pakistan anche voi come voi immaginate che sia questo paese però quando guardiamo al futuro che arriverà per tutti noi per noi la grande crisi e adesso poi magari mi interrompo e poi ci ritorniamo su la vera crisi è che la nazione sta diventando incoerente il Pakistan è un paese incoerente non funziona come dovrebbe funzionare una nazione ma anche l'Italia sta diventando incoerente anche l'Europa sta diventando incoerente l'Europa è una nazione è una serie di nazioni è un continente è un sogno un'idea quello che vediamo è una tensione che va in due direzioni c'è una tendenza sempre di più al campanilismo al localismo alle regioni vedete quello che accade nei separatisti in Catalogna in Scozia nelle zone tribali del Pakistan tutti si vogliono scindere dividere c'è una tendenza al guardare al proprio piccolo universo locale e poi c'è invece una tendenza contraria alla globalizzazione che nulla si può risolvere a livello locale tutto ciò che è ambiente flussi migratori il giusto trattamento e la giusta ritribuzione del lavoro in un'economia globalizzata sono tendenze mondiali e in tutto ciò ci sono le nazioni bloccate paralizzate incapaci di risolvere queste questioni locali e anche incapaci di risolvere o di rispondere ai quesiti mondiali e quindi si vede che ci sono in gioco queste forze che si scontrano ed è molto marcato in un paese come il Pakistan ma si stanno accentuando queste forze anche in America dove stanno emergendo due Americhe molto diverse sicuramente l'Italia e di sicuro tutta l'Europa per cui il Pakistan di sicuro può essere un esempio paradigmatico di un fenomeno che si sta verificando in tutto il mondo forse un po' più marcato in Pakistan ma accade in tutto il mondo io sono personalmente convinto che le spinte centripte e centrifughe che Amida ha così efficacemente riassunto siano in realtà il frutto dello stordimento che noi abbiamo davanti alla globalizzazione anche in questo senso il titolo di questo incontro che dice l'Asia siamo noi è paradigmatico come diceva Amid noi sulla nostra pelle abbiamo vissuto per esempio qui a Udine ma in tutto il nord Italia cos'è successo nel momento in cui la globalizzazione ha prodotto dei movimenti che si richiamavano alla Heimat cioè alla piccola patria nel momento in cui ci siamo trovati davanti all'universo al mare della globalizzazione abbiamo da una parte cercato all'interno delle nostre radici più profonde una sicurezza e dall'altra abbiamo capito che è ineluttabile invece di buttarsi attraverso il mondo e che lo Stato nazionale ottocentesco così come lo abbiamo conosciuto nel corso degli ultimi due secoli non era così capace di rispondere a queste esigenze noi abbiamo avuto dei riflessi soprattutto del nord io sono pure del nord anche se vivo a Roma la possibilità di dirci che il nostro riferimento era Milano piuttosto che Trieste piuttosto che Venezia e poi l'Europa semmai e così come sta succedendo in Catalogna nessun catalano si direbbe mai che vuole uscire dall'Unione Europea però vuole uscire dalla Spagna uno scozzese vuole uscire dalla vuole staccarsi dalla Gran Bretagna ma non si sognerebbe di uscire dall'Europa ed è questa contraddizione evidente che forse chiama in causa questi due aspetti la necessità economica di essere globali e la necessità personale di individuare una radice a cui aggrapparsi per rispondere alla domanda di chi siamo quando forse come ci spiegava anche Hamid nel primo suo intervento chi siamo la risposta alla domanda chi siamo forse è plurale voi siete probabilmente di Udine contemporaneamente friulani e poi italiani e poi europei e poi chissà cos'altro come lui ci ha raccontato molto bene quanto possa contemplare il fatto di essere contemporaneamente pakistano e americano e forse anche un po' italiano e forse anche un po' chissà che cosa altro nel momento in cui l'identità è qualcosa che si forma all'andare avanti delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze è ben vero però professor Torri che questo se riguarda gli individui Hamid ci ha fatto una bella distinzione tra la percezione individuale dei fenomeni e la percezione nazionale che ancora guida poi le scelte di chi si trova a presiederle queste nazioni e in questo senso è evidente che chi si trova in questo momento a condurre il Pakistan si trova davanti proprio oggi e oggi non vuol dire oggi in questo periodo proprio oggi perché arriviamo a una notizia di cronaca che ci costringe a occuparci anche di questo al fatto che la nazione accanto la grande potenza che sta accanto al Pakistan che si chiama India ha appena fatto una tornata elettorale che ha visto la vittoria di un partito induista fortemente nazionalista e allora ancora a maggior ragione noi oggi dovremmo riflettere nel momento in cui ci diciamo sempre che due stati vicini tutti e due che possiedono la bomba atomica e con dei grossi problemi di confine per esempio nel Kashmir e con dei problemi storici di confine fin dal momento in cui ci fu la famosa partizione eccetera in uno di questi due paesi prevale una formazione non solo fortemente nazionalista ma guidata da un personaggio che si chiama Narendra Modi che è stato sospettato lei mi diceva poco prima di venire qua molto più che sospettato di avere avuto un ruolo nei pogrom contro i musulmani all'inizio del nuovo millennio e allora io non le chiedo di avere la sfera di cristallo perché sarebbe impossibile ma di disegnarci uno scenario di futuro possibile nelle relazioni da due paesi storicamente belligeranti dove in uno di questi due prevale una formazione molto nazionalista sì dunque non ho la sfera di cristallo allora facciamo alcune valutazioni il BJP cioè il grande partito della destra hindù ha vinto a quanto pare l'elezione in maniera clamorosa il BJP era già andato al potere nel 1998 2004 ma allora aveva bisogno dell'aiuto di una serie di alleati e quindi l'azione del BJP era un'azione condizionata dalla presenza di questi alleati che erano alleati per ragioni se vogliamo di realpolitik di interesse ma non certo per ragioni ideologiche inoltre allora a capo del BJP c'era un personaggio Talbiari Vajpai che era un personaggio di notevole elevatura intellettuale e sostanzialmente un personaggio moderato ecco anche così il periodo in cui il BJP è stato al potere non è stato un periodo particolarmente felice da una serie di punti di vista adesso la situazione è per così dire cambiata in peggio nel senso che il BJP in questo momento è molto più forte di quanto fosse quando era andato al potere l'altra volta e soprattutto c'è la personalità di Narendra Modi Narendra Modi è un personaggio assolutamente autoritario che fra l'altro ha smantellato il proprio partito nel Gujarat lo stato indiano dove era capo ministro dove governava perché Narendra Modi vuole governare da solo governa da solo è una personalità profondamente autoritaria bene qui il problema è questo Narendra Modi ha costruito un'immagine di sé come di un leader decisionista un leader che combatte il terrorismo che è inevitabilmente terrorismo musulmano un leader forte che quindi è come dire condizionato in un certo senso a reagire in maniera forte se ci fosse qualcosa come un grosso attentato terroristico in cui fosse coinvolto il Pakistan o in cui si potesse dire che è coinvolto il Pakistan e questo rappresenta un pericolo d'altra parte Modi a quanto sembra non è un personaggio di forti convinzioni cioè non è un indufanatico cioè sposa posizioni che sono apparentemente dell'indufanatico ma le sposa per a quanto pare per ragioni di potere personale perché queste posizioni gli convengono c'era Vajpai il personaggio che ho citato prima che è stato primo ministro dell'India un membro del BJP che diceva di Modi a Modi se gli tornasse conveniente andrebbe a pregare tre volte al giorno in una moschea ecco quindi questo significa che è un individuo è un politico opportunista ma è un politico opportunista che peraltro si è costruito una certa immagine quindi qui siamo di fronte a due elementi che si controbilanciano e io francamente non so quale dei due prevarrà però c'è un dato da tenere presente e il dato è il dato apparentemente assai preoccupante che entrambi i paesi cioè sia il Pakistan che l'India dispongono di armi atomiche e da almeno 15 anni a questa parte se non prima la dottrina strategica del del Pakistan è diventata che in caso di attacco massiccio da parte dell'India il Pakistan userà le armi atomiche ora questo perché il dislivello di potenza militare fra India e Pakistan è tale che una guerra convenzionale l'India sarebbe in grado di distruggere il Pakistan occupare il Pakistan nel giro di due settimane e questo i pakistani lo sanno ormai l'hanno capito quindi la dottrina ufficiale è diventata l'uso della bomba atomica allora questa è una cosa molto pericolosa cioè qui siamo di nuovo in una situazione mad ma questa è una situazione mad di tipo militare ora io credo che qualsiasi persona ragionevole di fronte a una ipotesi di questo tipo per quanto possa fare il bellicoso normalmente farà un passo indietro quindi io penso che i rapporti fra India e Pakistan probabilmente peggioreranno diventeranno più tese e via dicendo non credo che questo comporterà sviluppi tragici non penso che ci saranno guerre di maggiori proporzioni anzi ho perfino un sospetto e il sospetto è questo che io mi son fatto la convinzione che alcuni attacchi terroristici provenienti dal Pakistan cioè che erano stati organizzati in Pakistan da associazioni terroristiche per esempio quello di Mumbai spettacolare che abbiamo visto al famoso certamente ecco sono stati resi possibili perché all'interno degli apparati segreti indiani c'erano in realtà forze collegate all'induismo politico che avevano tutto l'interesse a spalancare le porte a questi attentati terroristici sostanzialmente per mettere in difficoltà il congresso quindi io ho il sospetto che nel momento in cui Modi prenderà le redini del potere tirerà le redini sul collo di questi elementi deviati che a mio modo di vedere esistono nell'ambito dei servizi segreti indiani e quindi questo renderà più difficile che avvengano cose clamorose come l'attentato di Bombay del 93 ecco a questo punto bisognerà aggiungere ma è patrimonio che forse avrete già letto questa mattina sui giornali che anche per quanto riguarda la piccola storia rispetto a questo macro scenario che il professore dipingeva dei nostri due marò per paradosso la vicenda dell'elezione di Modi potrebbe fare risolvere in breve tempo e felicemente la questione visto che uno degli ostacoli che sempre si sovrapponevano alla soluzione della vicenda dei nostri due marò era il fatto che appunto era al potere il partito del congresso dove c'era un'italiana così come viene chiamata in India cioè Sonia Gandhi e che questo fosse in realtà un ostacolo da rimuovere nel momento in cui Modi avesse preso il potere avrebbe potuto risolvere coi mezzi della diplomazia internazionale una questione che ormai è diventata annosa ma volevo sentire sulla stessa questione della vittoria di Narendra Modi anche il parere di Hamid scusatemi io ho difficoltà a sentire il nostro ospite perché le due le due voci si sovrappongono quindi scusatemi ma io devo mettermi più vicino credo che questo non comporti nessun problema dicevo volevo volevo chiedere appunto a Moshina Midgan che lui avrà letto sicuramente l'esito delle elezioni indiane volevo chiedergli due cose a se anche lui come il professore pensa che ci saranno delle tensioni importanti tra i due paesi ma che in qualche modo la generazione di un equilibrio del terrore così come l'abbiamo definito tutte le volte che siamo stati sull'orlo di usare un'atomica e grazie a Dio dopo l'esperienza di Hiroshima e Nagasaki non è mai più stata usata questo di fatto congelerà la situazione ma non creerà un problema di guerra dichiarata e secondo gli indiani nella percezione del Pakistan oggi gli indiani che hanno scelto l'estremismo indudine la rendere a Modi chi sono? Allora comincio dalla seconda domanda credo che gli indiani che hanno votato per Modi non si può dire in generale che hanno votato per un estremista hindu di estrema destra o per una posizione fondamentalista secondo me molti hanno votato per una sorta di esperimento hanno guardato alla Cina e ad altri paesi e hanno immaginato che un libero mercato più funzionante potrebbe liberare il potenziale dell'India e Modi che sta cercando di implementare una cosa del genere potrebbe fare un gran bene a tutta l'India quindi non è che ideologicamente sono vicini a Modi lo hanno scelto come un esperimento diciamo e se l'esperimento fallirà tra cinque anni vedremo in India un governo molto diverso quindi non credo che dobbiamo per forza pensare che la società indiana abbia fatto un salto verso l'estremismo religioso detto questo c'è una tendenza nazionalista crescente xenofobia crescente nel ceto medio indiano e anche dell'Asia in generale lo abbiamo visto in Giappone con una posizione più nazionalista più aggressiva lo vediamo in Cina che in Cina dove si reagisce anche lì in modo veramente ipernazionalista anche quando si tratta di discutere di piccole isolette in mezzo al mare lo vediamo in Pakistan e lo vediamo in paesi che si stanno sfaldando completamente come la Siria credo che in un certo senso la questione per l'Asia è questa l'Asia riuscirà a guidare il mondo in un nuovissimo ventunesimo secolo davvero nuovo oppure l'Asia cercherà di emulare e dunque ripetere l'Europa del ventesimo secolo ma l'Europa delle due guerre con milioni di morti o l'Europa che ha prodotto 60 anni di pace perché ci sono due Europe io parlavo della prima ipotesi quello che è successo dopo la guerra l'Europa è stata fortunata ha avuto la fortuna che dopo un sacco di anni di guerra c'era ancora un'Europa c'era un'Europa che è riuscita a ricostruire pace prosperità e ricchezza se nella prima metà del ventunesimo secolo invece ci sarà un brutto conflitto in Asia non credo che resterà nulla dell'Asia da ricostruire non ci sarà più il potenziale per ricostruire la pace perché la popolazione del Pakistan non è come era la popolazione dell'Europa nel 1914 e se si sommano le dimensioni di tutti questi paesi e l'uso eventuale di armi nucleari allora questi conflitti ipernazionalisti se si metteranno in moto saranno veramente distruggeranno tutto in maniera inimmaginabile e quindi si tratta di vedere come l'Asia riuscirà a gestire o a cavarsela in tutto ciò Modi rappresenta senz'altro un impulso nazionalista una spinta in quella direzione il partito comunista cinese anche rappresenta una spinta nazionalista però sappiamo già tutti quello che è accaduto nel ventesimo secolo abbiamo visto cos'è un'arma nucleare utilizzata lì ci sono le armi nucleari però c'è anche la possibilità che al di sotto di questo concetto MAD Mutually Assured Destruction di cui parlava il professore che all'interno di quel concetto ci saranno forse delle brecce delle novità tra paesi potrebbe stranamente anche succedere che Modi come politico di destra riesca forse a fare la pace con il Pakistan a prescindere dalla controparte è un po' quello che si dice sempre che i presidenti democratici in America cominciano le guerre e definiscono i presidenti repubblicani poi con Bush non è stata così ma per il resto della storia americana così è stato sì effettivamente potrebbe proprio essere così è talmente ovvio secondo me che la disputa sull'Indopac può essere anche disarmata si cominciano ad aprire le frontiere riprendere i commerci si comincia ad accettare un compromesso sul Kashmir di qualche tipo e si lascia che avvenga questo avvicinamento geografico e si finisce un po' come la Francia e la Germania non è uno scenario inimmaginabile non è è molto diverso dall'Israele e Palestina dove si stanno contendendo ovviamente la stessa zona il conflitto poi tra la Cina e il Giappone riguarda delle isolette talmente piccole che finiranno comunque sotto acqua invece il conflitto sul Kashmir tra Pakistan e India riguarda comunque una popolazione che è meno dell'1% della popolazione totale dei due paesi per cui io sono senz'altro terrorizzato dalla situazione attuale ne ho paura ma continuo a mantenere la speranza che l'Asia troverà una soluzione degna del ventunesimo secolo una soluzione molto simile a quella dell'Europa senza dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale senza per forza dover attraversare le due guerre mondiali che ci sono state in Europa e immaginiamo che il titolare del premio che oggi Moschina Amid ha vinto si auguri dalla su le stesse cose che si sta augurando in questo momento Amid e dico naturalmente Tiziano Terzani e all'inizio del suo intervento di questo intervento professor Torri Moschina Amid ci ha detto una cosa vediamo se l'Asia sarà in grado nel ventunesimo secolo poi ha parlato della vittoria delle scommesse delle sfide che l'aspettano eccetera ma di guidare il mondo che è un termine che non avremmo mai usato fino a qualche anno fa perché ci siamo sempre immaginati che a guidare il mondo se mai era da un punto di vista dei valori civili morali l'Europa probabilmente da un punto di vista economico gli Stati Uniti oggi ci troviamo a immaginare questa possibilità di un continente che è cresciuto a tal punto da prendersi una responsabilità grossa cioè quella di guidare il mondo si è detto persino negli ultimi giorni che questo sorpasso dei cinesi sugli americani in quanto a PIL prodotto i cinesi non lo vogliono denunciare perché hanno paura di prendersi questa enorme responsabilità di diventare un paese leader ma allora io volevo chiederle due cose uno se a suo avviso l'Asia anche se lei ci ha spiegato che è divisa in varie che non si può parlare di una Asia è pronta per guidare il mondo e secondo se è vero che ha fatto il sorpasso dunque appunto questi termini occidente oriente occidente e Asia mi mettono sempre come dire un po' in agitazione perché ripeto non esiste l'Asia io sono un professore di storia dell'Asia ho insegnato per quasi 40 anni storia dell'Asia e posso dire ex cathedra in un certo senso che l'Asia non esiste non esiste neppure come espressione geografica cioè ci sono tante Asie allora la domanda deve essere riformulata è quella determinata parte dell'Asia in grado di avere una funzione leader a livello mondiale ora l'unico paese in Asia che può aspirare a una funzione leader a livello mondiale è la Cina secondo me perché il Giappone a parte che bisogna ancora capire se riuscirà a uscire da questa situazione di ristagno in cui è sprofondato da 10-20 anni ecco il Giappone non è stato mai in grado dalla seconda guerra mondiale in avanti di condurre una politica indipendente la politica giapponese è sempre stata guidata condizionata la politica estera giapponese dagli Stati Uniti quindi il Giappone non può esercitare questa funzione di leader in quanto all'India l'India è l'altro grande colosso emergente è un colosso pieno di contraddizioni è probabilmente un colosso dai piedi d'argilla io non scommetterei tantissimo sulla continuità della crescita senza limiti dell'India penso anche che l'andata al potere di Modi si tradurrà in una crescita del PIL in una crescita dei valori macroeconomici ma nell'allargarsi di fratture interne nel corpo sociale indiano che a un certo momento avranno dei contraccolpi molto violenti a livello politico a livello sociale allora il problema è la Cina è la Cina che è stata per una gran parte della storia la nazione più sviluppata del mondo e che ora chiaramente si trova alla soglia di dover esercitare di nuovo questo ruolo ora la classe dirigente cinese per ragioni culturali credo è una classe dirigente abituata ai discorsi di lungo periodo cioè la Cina ha questa storia unica di avere un'unità statale che salvo un periodo relativamente breve dura da quando qui in Europa c'era l'impero romano quindi questo ha abituato le classi dirigenti cinesi a pensare sul lungo periodo allora ecco può la Cina esercitare questo ruolo di stato leader cioè la Cina si rende perfettamente conto di essere una situazione di transizione estremamente pericolosa perché esiste una potenza imperiale che sono gli Stati Uniti e esiste la Cina che forse sta già adesso sorpassando dal punto di vista economico gli Stati Uniti allora quando si ha una situazione in cui c'è una potenza imperiale in declino ma che è ancora fortissima soprattutto dal punto di vista militare bisogna essere prudenti quindi l'atteggiamento dei cinesi di cui lei parlava deriva da questa prudenza cioè i cinesi sono convinti stavo per dire sanno ma non si può sapere il futuro sono convinti che la loro crescita economica è destinata a continuare e che questo automaticamente porterà a un ribaltamento degli equilibri mondiali e quando e che a un certo punto ci sarà l'effettivo sorpasso di potenza della Cina rispetto agli Stati Uniti a quel punto la Cina si farà avanti per esercitare un ruolo di paese leader a livello mondiale cioè qui in realtà il problema è questa crescita così rapida della Cina continuerà come ipotizzato in genere da gran parte degli economisti perché ci sono alcuni studiosi che hanno messo in dubbio questa possibilità di continua crescita economica della Cina e che hanno ricordato che anche l'Unione Sovietica dagli anni 30 agli anni 70 è cresciuta in maniera rapidissima è cresciuta al 6% all'anno noi ci ricordiamo perché siamo abbastanza vecchi di quando Khrushchev si dava l'America dicendo che l'avrebbe battuta perché l'avrebbe sorpassata economicamente poi la crescita sovietica a un certo momento si è interrotta per ragioni che secondo alcuni studi erano legate al sistema politico autoritario che esisteva in Unione Sovietica e noi sappiamo che fine ha fatto l'Unione Sovietica allora qui il problema vero è il sistema autoritario cinese attualmente esistente che però è un sistema molto più flessibile e molto più efficiente di quello dell'Unione Sovietica riuscirà a governare questa continua crescita riuscirà ad andare avanti con questa continua crescita o alternativamente la Cina avrà la capacità di darsi istituzioni più aperte non dico di democrazia occidentale ma che abbiano una maggior capacità di rispondere alle esigenze della popolazione cinese questi sono i punti interrogativi se la Cina riesce a fare o l'uno o l'altro di queste due cose a me sembra che ci sia poco da dubitare sul fatto che non fra dieci anni non fra vent'anni ma fra trent'anni fra quarant'anni la Cina sarà diventata il paese egemone a livello mondiale la Cina è una certa parte di Asia ma è una parte di Asia completamente diversa per esempio dall'India è una parte di Asia completamente diversa dall'Iran che è un altro componente importante dell'Asia è un pezzo di Asia completamente diverso dall'Indonesia e potrei continuare quindi appunto la domanda corretta è è la Cina pronta a esercitare questo ruolo avrà la capacità di esercitare questo ruolo bene io ho un'ultima domanda e poi forse rimane qualche minuto di tempo se dal pubblico qualcuno vuole porre delle domande ai nostri relatori ed è una domanda ad Amid e torno al suo libro hai avuto una formazione economica hai fatto il consulente aziendale a New York per lungo tempo questo tuo libro ha come sottofondo come l'economia muove l'uomo ma termina in realtà e forse qui lo scrittore si è sovrapposto all'economista con un inno a una storia d'amore che si consuma solo in tarda età come se tutti i meccanismi dell'economia poco valessero davanti almeno al meccanismo della felicità personale al meccanismo del sentimento è corretta questa interpretazione del tuo libro che a un certo punto tu dici ma in fondo la felicità individuale non dipende da questo dal possedere beni diciamo ma quando pensiamo all'economia e soprattutto quando pensiamo al mercato o ai soldi e il mercato che poi è la forma prevalente anche nella Cina comunista c'era un mercato ed è diventato un grande mercato capitalista la Cina in qualche maniera dicevo il principio del mercato è sempre l'auto interesse l'interesse del proprio se tutti ci comportiamo per il nostro proprio interesse quanto più possibile quanto più lo facciamo tanto più efficace diventa il mercato e tanta più crescita c'è se uno pensa al proprio interesse e questo in una società moderna che sia la Cina che sia l'Italia che sia il Pakistan questo crea una pressione collettiva ad essere sempre più concentrati su se stessi e questo a sua volta non può che portare ad una crisi perché se tutto riguarda il sé o il sé stesso allora che cosa facciamo quando ci veniamo messi davanti alla fatto alla realtà che il sé stesso è solo provvisorio e temporaneo per cui nel corso della storia e della cultura dell'uomo c'è stata una corrente di tanti diversi sforzi tentativi religiosi artistici o d'amore anche movimenti d'amore che riguardano proprio il togliere l'accento sul sé o sul se stessi e ridurre la prevalenza del sé questi tentativi non sempre ce l'hanno fatto spesso c'è stata ipocrisia ma questo tentativo c'è sempre stato anche perché è un po' una cosa indispensabile per l'essere umano è insoffocabile e attualmente credo che la religione stia diventando sempre meno efficace nel dare risposte perché la religione o le religioni in tutto il mondo diventano sempre più simili alla politica e anziché dire che tutti gli esseri umani davanti alla situazione purtroppo universale di essere tutti temporanei di essere qui di passaggio invece le religioni dicono io sono cristiano e tu sei musulmano io sono sciita tu sei sunnita io credo in Dio e tu sei un ateo sempre la dicotomia le religioni diventano una sorta di nuovo tribalismo c'è sempre stato un tribalismo nelle religioni però la funzione spirituale purtroppo è stata schiacciata è soffocata da questa tendenza invece tribalista e proprio per questo abbiamo i valori tradizionali però la migrazione ha fatto andare in giro per il mondo milioni di italiani da nord a sud dal Friuli all'America all'Australia America meridionale da Pakistan a Dubai a Londra le migrazioni hanno fatto spostare persone anche da piccole città a grandi metropoli e le reti tradizionali che avevamo sono state tutte sconvolte e quindi la stessa idea dell'amore è diventata in preda al mercato quando diciamo io amo la tua macchina mi piace la tua macchina praticamente diciamo vorrei anch'io una macchina come quella e se io dico amo una donna vuol dire la vorrei possedere vorrei che questa donna sia mia moglie dunque che sia mia tutta mia e se si comporta male questa donna magari anche la ammazzo questi sono approcci molto basati sul sé molto concentrati su se stessi però c'è un'idea molto più antica dell'amore secondo me e questa idea più antica dell'amore non è che vuol dire quando io dico ti amo mi fai sentire meno solo è invece che quando io dico ti amo voglio dire voglio che tu ti senta meno solo e questa forma autentica d'amore che si esprime anche poi in ogni tradizione religiosa in ogni tradizione poetica in ogni tradizione culturale questo approccio è importante perché va a diminuire la nostra concentrazione su noi stessi il ruolo centrale del sé e quindi io volevo scrivere effettivamente un romanzo su questa economia tutta concentrata sul mercato che però fosse anche una storia su come puoi scoprire un amore non basato sul possesso un amore disinteressato una storia d'amore tra due persone che però non arrivano mai a possedersi a vicenda tranne una volta sì però forse non è un possesso sì si mettono insieme ok però non è forse una forma di possesso e credo che l'ultima cosa che voglio dire poi su questa è che ho cominciato a pensare a questo a riflettere su questo perché in Pakistan come già saprete molte persone sono islamiche sono musulmani la maggior parte però forse qualcuno sarà sorpreso dal sapere che l'islam in Pakistan è stato insegnato nella storia prevalentemente non insegnando i comandamenti del Corano gli insegnamenti integralisti anzi gran parte dei pakistani non conoscono affatto l'arabo e dunque non possono leggere il Corano invece l'islam è stato insegnato sotto forma di poesie d'amore le poesie sufi e quindi volevo scrivere in questo mio romanzo una moderna forma di poesia sufi e la bellezza di questo approccio sufi è che non richiede nemmeno che uno sia musulmano islamico o che debba credere in Dio e proprio per questo ha un interesse superiore universale molti molti non sarebbero d'accordo con me direbbero che questo approccio sufi richiede la fede in Allah in Dio però ci sono poeti pakistani tra cui uno molto famoso che ha venduto tantissimo in America un poeta sufi che esiste da millenni e quindi che c'è questo interesse senza tempo un interesse infinito e credo che ormai sia giunto il momento che per tutto il mondo per ognuno di noi di riflettere su come possiamo rispondere a questa crisi psicologica del mercato e della globalizzazione che cosa fare perché se non facciamo nulla se non rispondiamo e se ne parliamo come se il fenomeno fosse solo politico o economico finiremo con una epidemia di crisi spirituale secondo me e se uno non crede a nessuno spirito a nessuna spiritualità sarà anche una epidemia di malattia mentale di delirio e i giovani teenagers rischiano proprio di trovarsi in questa storia di delirio psichiatrico ed entrare in un centro commerciale farsi saltare in aria uccidendo centinaia di persone in pakistan questo succede oppure possono entrare in una scuola in america imbottiti di tritolo oppure andando a sparare a uccidere centinaia di loro coetanei grazie al professor torri e grazie a moshinamid se ci sono delle domande in sala non so dal punto di vista delle luci come si può ecco non vedo mani che si alzano ma forse sono eccola qua eccola là perfetto signor Hamid ho una domanda il suo libro precedente si chiamava il fondamentalista riluttante perciò parla di fondamentalismo questo nuovo si chiama come essere diventare ricchi sfondati nell'asia emergente per cui ci abbiamo come i due estremi nel suo pensiero uno è il fondamentalismo uno è il capitalismo c'è una terza via e noi che abbiamo percorso ora la via del capitalismo senza tanta religione senza tanto fondamentalismo cos'è l'alternativa che visto che davanti ora non sappiamo bene cosa vedere no? è solo il fondamentalismo il fondamentalismo è una risposta al capitalismo che ha visto da noi e ora che il capitalismo sta arrivando da voi state percorrendo la stessa strada che noi abbiamo già fatto più veloce e dietro a noi o stanno forse da voi emergendo delle nuove idee delle nuove soluzioni grazie io raccoglierei qualche domanda se ce ne sono altre così almeno poi Amida e il professor Torri hanno possibilità di rispondere più organicamente ci sono altre domande? ecco là c'è una domanda no io volevo parlare brevemente della globalizzazione volevo dire questo se in occidente la manifattura sta scomparendo questo è stato deciso dai politici e dalle multinazionali perché perché andando in Cina a produrre paghi di meno e la manodopera costa niente e i profitti sono più elevati e in questo giochetto ci guadagnano in pochi perché io le faccio un esempio io ho comprato un iPhone della Apple è fatto in Cina quindi noi non lo facciamo in occidente io vado in negozio spendo 600 euro compro l'iPhone e dopo dico beh vabbè ma almeno va in tasse posti letto in ospedale soldi per lo Stato per il welfare state e invece non è così perché in realtà i soldi che io do alla Apple l'Apple di quei soldi lì le tasse non le paga in Italia ma va in Irlanda e paga una cifra ridicola quindi questo tipo di globalizzazione dove non c'è redistribuzione a chi serve? A pochi secondo me vorrei una risposta grazie altre domande? ora non ne vedo quindi Amid se vuoi cominciare a rispondere e magari poi il professor Tori sulla globalizzazione dell'economia e a chi giova beh io penso che la grossa contraddizione o quasi la grossa falsità direi nel concetto stesso di quelli che hanno sempre voluto il libero mercato sta nel fatto che abbiamo parlato della libera circolazione dei capitali però tutti quelli che hanno studiato economia sanno molto bene che i mercati sarebbero alquanto più efficaci se si anche se si consentisse anche la libera circolazione del lavoro e della forza lavoro perché invece abbiamo scelto che miliardi possono andare dall'Italia alla Cina però invece un miliardo di cinesi non possono andare dalla Cina all'Italia non ci stanno siamo piccoli sì l'Italia potrebbe diventare come una gigante Shanghai se arrivassero tanti cinesi vabbè comunque quello che sto cercando di dire è che non abbiamo veramente un libero mercato non ce l'abbiamo abbiamo una strana struttura che forse non funziona affatto bene per molti di noi e per me quello che servirebbe adesso secondo me sarebbe un antidoto alla sensazione che moltissime persone hanno ovvero che il futuro non sia più nelle nostre mani che il futuro ci verrà imposto ci cadrà addosso il futuro accadrà all'Italia senza che l'Italia se lo possa scegliere che il futuro cadrà addosso al Pakistan senza che se lo possano scegliere io credo che questo esista in un certo modo perché in un certo senso perché a livello planetario a livello di tutta l'umanità abbiamo delle istituzioni che sono state costruite con quello che uno potrebbe definire una posizione atlantica diciamo euro-atlantica euro-americana e da questa posizione di partenza ha completamente senso dire che le Nazioni Unite dovrebbero avere un'assemblea generale senza poteri praticamente nonostante tutti i paesi e un consiglio di sicurezza che è strappieno di concetti e di persone nordamericane ed europee e paesi americani ed europei e invece nessuna istituzione dove siano rappresentate le persone di tutto il mondo proporzionalmente a quanti di loro ne esistono quindi un organo per tutto il mondo secondo me la necessità per una vera democrazia globale e globalizzata è fondamentale abbiamo bisogno di questo questo potrebbe sembrare un atteggiamento un po' utopista un po' irreale e quasi anche un po' che faccia paura come idea però mi verrebbe anche da dire che potremmo senz'altro trovare che in una democrazia finalmente globale magari gli italiani avrebbero paura che l'Indonesia abbia cinque volte più voti dell'Italia proporzionalmente ma potrebbe anche essere che il ceto medio indonesiano andrebbe a votare per politiche che finirebbero con tutelare i lavoratori con tutelare il diritto delle persone i diritti fondamentali il controllo delle cooperazioni multinazionali votare per una normativa ambientale finalmente migliore lo farebbero gli indonesiani magari e voterebbero in modo identico a come voterebbero gli italiani perché avere sempre paura allora lei mi chiede se c'è una terza via tra i due estremi ma c'è stata una rinuncia collettiva da parte dei 7 miliardi che siamo tutti noi che siamo gli abitanti di questo pianeta terra abbiamo rinunciato a far sentire la nostra voce a dire che tipo di terra vogliamo e a dar forma a questa terra che noi tutti vorremmo abbiamo rinunciato e qui penso che diventi interessante un'eventuale leadership asiatica il professore ha assolutamente ragione quando dice che l'Asia non esiste l'Asia è fittizia anche come concetto geografico però l'Asia è fittizia è finta anche geograficamente ma lo è altrettanto l'Europa se ci pensate però la cosa che ci tengo a dire è che la prospettiva che potrebbe giungere dall'Asia interessante è che se l'Asia si mette alla guida comincia a guidare allora l'Asia non deve aver paura del principio della maggioranza che è la maggioranza che governa perché già più della metà del mondo è asiatica numericamente questa per me è la vera promessa per l'Asia se la Cina riuscirà a sviluppare un sistema che consentirà ai cinesi di esprimersi finalmente di dire quello che vogliono in Cina di realizzarsi allora la Cina potrà cominciare a mettere in piedi un sistema che venga poi finalmente applicato a livello globale un sistema che il Regno Unito e l'America non vorrebbero mai perché ovviamente proporzionalmente conterebbero molto poco come voce in questa direzione però secondo me possiamo andare avanti questa è la strada per andare avanti e se percorriamo questa direzione quello che troveremo è che è che abbiamo tanti o forse tantissimi interessi in comune professore sulla globalizzazione ma io sono in linea di massima perfettamente d'accordo con quanto ha detto e quanto sottintendeva il signore che ha fatto la domanda cioè questo tipo di crescita è un tipo di crescita che torna a vantaggio di gruppi molto ristretti e che distribuisce le briciole a gruppi un po' più ampi ma sempre sostanzialmente minoritari cioè questa crescita che fra l'altro in questo periodo si è anche bloccata ha avuto come effetto finale quello di approfondire i dislivelli economico sociali nel mondo occidentale anzi è probabile che il blocco della crescita a cui in questo momento assistiamo sia proprio legato a questo dislivello sempre più ampio che si è formato fra una minoranza della popolazione e la maggioranza della popolazione ora il processo di globalizzazione si è come dire dispiegato anche in Asia e anche in Asia ha portato a questi fenomeni di come dire spaccatura del corpo sociale e per cui la ricchezza è confluita nelle mani di una minoranza della popolazione il caso dell'India da questo punto di vista è un caso molto interessante perché l'India ha avuto questa forte crescita economica anche se adesso è rallentata ma in realtà le ricadute della crescita economica si sono avute su quelli che gli indiani chiamano i croerpati cioè i milionari e sulla classe media la classe media indiana però è una minoranza della popolazione ed è una minoranza privilegiata la vittoria di Modi da questo punto di vista rappresenta una svolta in questo senso una svolta negativa perché la crescita economica che si è avuto grazie alla globalizzazione in India è stata una crescita economica che però ha visto il governo indiano fare tutta una serie di operazioni di ridistribuzione della ricchezza cioè in particolare gli ultimi due governi indiani guidati dal congresso hanno approvato delle leggi per esempio la legge che stabilisce il diritto legale di qualsiasi famiglia rurale che almeno uno dei membri di questa famiglia lavori per cento giorni all'anno e questa è stata una legge molto importante o la legge sulla sicurezza alimentare che è passata lo scorso anno che dà a prezzi molto bassi una certa quota di granaglie commestibili di cereali all'80% della popolazione indiana queste sono state importanti leggi di ridistribuzione l'ascesa di Modi al potere significa che probabilmente questi sforzi di ridistribuzione finiranno perché se si va a vedere l'esperienza di governo di Modi in Gujarat si vede che lì queste leggi sostanzialmente non sono state applicate allora c'è ancora da riflettere sul caso della Cina anche in Cina c'è c'è stata una crescita che è legata al fatto dello sviluppo di questo sorta di irco cervo di bestia mitologica che è il il socialismo di mercato ecco il socialismo di mercato cioè in pratica lo sviluppo capitalista legato al processo di globalizzazione e governato però da un partito unico ha portato a un grande aumento di ricchezza ma anche ha un grande aumento di dislivelli sociali in Cina però direi che assai più della dirigenza indiana del congresso e certamente in maniera completamente diversa dall'atteggiamento di Modi negli ultimi anni la dirigenza cinese si sta rendendo conto sempre più acutamente della necessità di procedere a una ridistribuzione della ricchezza perché la continuazione di questo sviluppo porterebbe a delle tensioni interne nel corpo sociale cinese probabilmente non più gestibili ecco quindi da questo punto di vista la Cina è un paese da osservare con molta attenzione perché io credo che sia in corso un esperimento di arrivare a un processo di crescita che ha elementi di equità che tutto sommato per esempio in India non ci sono o non ci saranno più elementi di equità che anche in occidente vengono a mancare perché questo sviluppo capitalistico questo tipo di sviluppo capitalistico sta portando a un impoverimento di ampi strati della popolazione il problema è che effettivamente cioè Moshin parlava diceva noi cioè la gente ha rinunciato a esercitare il proprio potere cose di questo genere dovrebbe riprendere in mano la situazione ma questo non tiene conto del fatto che a parte la gente a parte il comune elettore ci sono altre forze in campo cioè le grandi corporation internazionali che hanno spesso dei bilanci superiori alle nazioni che le ospitano e che hanno una gestione verticistica del potere hanno tutti gli strumenti per pianificare le loro politiche e per mettere le loro politiche in pratica per attuare queste loro politiche cioè un certo tipo di trasformazione economica e sociale che si è verificata negli ultimi decenni non è una cosa naturale che è avvenuta perché il mercato funziona così non è in base a delle leggi che appunto sono al di fuori del controllo degli esseri umani questa evoluzione economica è avvenuta perché ci sono state delle decisioni da parte di centri di potere che sono centri di potere molto potenti e che sfuggono in gran parte al controllo democratico cioè che tipo di controllo effettivamente il governo degli Stati Uniti può esercitare su certe grandi corporation quando sostanzialmente queste grandi corporation sono quelle che finanziano il funzionamento del sistema politico americano io credo che sia un po' ipotizzarlo credo professore che per concludere perché il tempo sta finendo dovremmo dirci quello che ci stiamo dicendo dall'inizio di questa grande crisi che fino a quando l'economia non si riprenderà un primato sulla finanza a cui ha derogato negli ultimi anni certi temi come la democrazia non è un caso che in Europa soprattutto siano usciti molti libri che ne annunciano la fine dopo la democrazia cosa esiste dopo la democrazia o quale democrazia sono tutti temi che sono sorti dopo la grande crisi cominciata nel 2007 e che è ancora in atto e con i quali tutti dobbiamo confrontarci se esistrà una democrazia o meno naturalmente tutti speriamo di sia intanto io ringrazio il professor Michel Guglielmo Torri Moscina Mid e soprattutto tutti voi per essere stati così pazienti da ascoltarci per questo tempo grazie grazie a tutti grazie a tutti